Ha voluto essere presente in aula nella prima udienza del processo a suo carico il padre che uccise la figlioletta di appena 4 anni. Era l'aprile del 2020 quando si consumò la tragedia in un casolare di Levane, l'Italia era in pieno lockdown. Il quarantenne aveva appena perso il lavoro, era in casa con i due figli, la moglie era uscita a fare la spesa. I bambini stavano guardando la televisione, forse bastò solo il volume troppo alto per far esplodere la violenza. Il padre avrebbe aggredito prima il figlio maggiore di 12 anni colpendolo alla testa, ma il ragazzino riuscì a fuggire e andò a cercare aiuto. La furia del quarantenne a quel punto si sarebbe scagliata sulla figlia di soli 4 anni. Le coltellate che per la piccola furono fatali la raggiunsero al collo e al mento. Poi tentò di togliersi la vizza gettandosi in un pozzo, lì venne recuperato dai vigili del fuoco e arrestato. Lui non ricorda quei momenti? Assolutamente no, ha un blackout totale. Da un momento in cui parlava con il figlio non si ricorda per due o tre giorni, ha un blackout di almeno 48 ore. E questo blackout è stato determinato sia da una forte componente di stress, perché ricordo che eravamo nel primo periodo del lockdown e di conseguenza lui aveva perso il lavoro e anche invece un aspetto di carattere organico, quindi aveva delle ischemie. L'uomo è dichiarato socialmente pericoloso ed è tuttora ristretto in una REMS, dichiarato incapace di intendere e di volere. Nell'udienza di questa mattina il PM, Laura Taddei, ha chiesto l'acquisizione della documentazione di indagine ed è stata formalizzata la rinuncia ad ascoltare i testimoni. La prossima udienza è fissata per il 12 febbraio e l'imputato potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. In quella data ci sarà la sentenza. Questo processo sicuramente si sarebbe concluso prima della riforma dell'abbreviato, sì, e quindi in corte d'assise si dovrà concludere, però sostanzialmente la procedura è la stessa, perché dando l'acquisizione non viene fatta istruttoria, non vengono sentiti testimoni, virtù di un principio di economicità processuale, il suo stato di incapacità di intendere e di volere è ormai accertato dallo psichiatra più volte e di conseguenza il risultato sarebbe stato il medesimo.